Presidente Massimo De Salvo oggi non era facile però è arrivata la sesta vittoria nelle ultime sette gare una vittoria importante perché è ottenuta con il cuore la grinta e determinazione è una partita molto difficile contro un avversario determinato, tignoso, che aveva voglia di far bene era importante confermarsi, ripeto, sei vittorie in sette partite è sicuramente un bel risultato adesso dobbiamo continuare così ecco, la classifica diceva che il Mantua era metà classifica però era riduce da un ottimo periodo si è visto che stava giocando bene, Iuri ci ha messo in campo bene la squadra ma il Novara si è confermato ancora una volta una grande squadra il Mantua veniva da un bel momento, è una squadra che è giovane ma di grande determinazione anche di buona qualità, l'allenatore si vede che è bravo e ha una buona scuola, ottima scuola per cui era sicuramente una partita difficile, noi veniamo da un periodo molto buono avevamo qualche assenza di troppo ma alla fine la determinazione e la qualità ci ha consentito di vincere ecco, poi anche la qualità della rosa perché entra gente come Corazza entra Schiavi oggi al primo assist ai professionisti dopo 30 secondi Gonzales ritrovato sempre più Pablo, sempre più Gonzales tutto sembra andare per il verso giusto sì, è molto lungo, quindi oggi siamo contenti abbiamo fatto un periodo buono, positivo, dobbiamo continuare così però sappiamo che il campionato, ripeto, si gioca al ritorno per cui dobbiamo conquistare sempre più posizioni essere sempre più determinati per poi giocarci bene le nostre chance nel girone di ritorno oggi siamo contenti e cerchiamo adesso di andare a giocare contro la Giana con lo stesso spirito